Ssssshh, Enzio! Ehi, è come se non ci fossi allora, va? Per favore, se no ho un suono non capite che sono venuto! Allora, molti di voi hanno fatto l'esame ieri, quello pratico, è la teoria la scorsa settimana. Alcuni invece devono ancora cimentarsi in questo che diciamo l'esame per la patente. Poi ci sono patenti B, C, D, B, C, D. Allora, questi sono i risultati per quanto riguarda coloro che hanno già fatto l'esame. Non male, non male, non male. Ah, vediamo. Questo chi è? Paltera. Tu sei paltera. Ecco, vedi, 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 tutte queste cose, diciamo, a conoscenza, sì. E infatti idoneo, diciamo, promosso. Complimenti per la tua patente, nonostante l'età. Poi, poi abbiamo Orlando. Sei tu Orlando? Orlando. Anche tu hai fatto pratica e teoria. Alla grande, alla grande. Oh, non ha sbagliato io. Tutto perfetto. Sì. Ok. Complimenti anche a te per la tua patente. Sì. E poi abbiamo Rubino. Eccolo là. Rubino. Anche tu. Bravo. Promosso. Patente anche per te. E poi abbiamo, abbiamo, abbiamo... Cosimino. Presente. Ah, sì. Ah, più oltre. Presente. Cosimino. Cosimino. Cazzo. Bocciato Cosimino. Ciao, che sta a dire? Ma sta a scherzare. Oh. Ehi, come lì tu? Vi hai fatto un sacco di patte. Sono in febbre l'operaio. Poi, sì. Poi, sì. Poi, sì. Allora, c'è due. Ascolare qui, c'è uno da qui, eh? Chi si può fare se io faccio? Dì, dì, dì. C'è la cazzo, eh? Posso scrivere un po' di un libro. Posso scrivere. Hai capito o no? Hai capito o no? Hai capito o no? Ci ha detto? Ci ha detto. Ci ha detto, ma... Di chi lo fa? Ha detto che con tutto quello che sa, potrebbe riempire un libro. Ha detto, potrebbe riempire un libro? Sì. Il problema, sai qual è? Che con tutto quello che non sa, potrebbe riempire un ospedale. Di chi lo fa? Che me ne braga, mai? Ha detto che non è sufficientemente interessato all'argomento. Sì, sono capisciuto. Sì, sono capisciuto.